Sono Salvatore Claudio D'Ambrosio, sono dipendente di Banca Montepaschi, sono anche educatore finanziario. Sono Anna Della Cioppa e mi occupo di intermediazione assicurativa e finanziaria da oltre dieci anni nella nostra zona del Casertano. Sono Serena, sono un broker assicurativo. Anch'io mi occupo di questo settore da diversi anni. Sono qui oggi soprattutto per una scelta libera perché mi interessa sempre evolvermi, arricchirmi e soprattutto questo corso mi stimola molto. La cosa importante è con la stimolazione essere stimolato ad andare oltre i propri limiti. IEF, già i corsi online mi hanno dato tanto. Oggi siamo qua, partecipiamo al corso IEF. Ci stiamo trovando benissimo, estremamente divertente, ma la cosa più importante è che ci sta dando tantissimo dal punto relazionale. Tanti spunti su cui lavorare, su noi stessi e per raggiungere appunto gli obiettivi che ci prefiggiamo ogni giorno. Su internet ho visto questa bella possibilità di partecipare a questo corso e sono contentissima di averlo fatto. Tant'è vero che seguirò questa squadra e lo consiglio anche a voi.